Buongiorno, buonasera, Marco Pt. Argomento di oggi, scheda contro diario di allenamento. In realtà non si tratta di una vera e propria contrapposizione, nel senso che la scheda è l'anticamera del diario. Cos'è una scheda? La scheda è quella specie di lista della spesa che viene appioppata al praticante, al primo giorno di palestra appunto, e che avrebbe lo scopo di guidarlo nella sua avventura nel mondo dei pesi. Quindi si vedono nelle palestre questi apprendisti al primo giorno che girano tra i macchinari, tra gli attrezzi, come una casalinga che gira tra gli scaffali del supermercato con la lista della spesa in mano, cercando di trovare il prodotto giusto e metterlo poi nel carrello. Nulla di male in questo scenario, il classico incipit di chiunque abbia iniziato in palestra. La scheda entra in gioco, il diario scusate, entra in gioco quando la scheda comincia a mostrare i propri limiti, i suoi limiti. Nel senso che una scheda è un programma statico, la scheda è un qualcosa di fisso, di non modificabile, è un foglio stampato o un file in pdf che non può essere sovrascritto, che non può essere manipolato. Quindi quando un principiante diventa intermedio, comincia a curarsi anche della progressione di carico, comincia magari a prendere gusto con la palestra, comincia a divertirsi diciamo, vuole anche sapere, vuole anche avere una traccia cronologica dei propri progressi. Quindi vuole controllare quello che sollevavo un mese fa per rapportarlo a quello che alza oggi. E qui entra in gioco il diario di allenamento. Il diario è una naturale evoluzione della scheda. Non sono due approcci contrastanti. Il diario è una cosa che sfocia in modo automatico quando il sistema delle schede diventa non più sostenibile. I vantaggi del diario sono diversi. I vantaggi sono più che altro inerenti a una cronologia tracciabile, a dei progressi riscontrabili, verificabili, a un monitoraggio costante delle fluttuazioni di carico, sia in salita che in discesa. In questo modo è possibile anche rendersi conto se si stia muovendo nella direzione giusta. Un altro vantaggio del diario è che consente una catalogazione delle varie mensilità in palestra e poter capire quali fossero i nostri, quali siano stati i nostri periodi migliori e in quali periodi invece abbiamo fatto performance non molto brillanti. Un diario di allenamento consente di capire cosa ha causato periodi di deficit e cosa ha invece promosso settimane di guadagni. Quindi capire quali sono le programmazioni che hanno funzionato in passato e quali sono le programmazioni che ci hanno creato problemi. È chiaro che si tratta di un processo di registrazione carichi che va fatto ogni volta che si va in palestra. Alcuni hanno un diario cartaceo, la classica agendina o il classico quaderno con la penna e la matita. Altri invece, come sottoscritto, utilizzano le applicazioni. Niente di sofisticato, banalissime applicazioni nello smartphone che consentono di tenere traccia di tutti gli allenamenti. Io personalmente uso le applicazioni del mio smartphone, utilizzo proprio la classica, si chiama Note. Questa per dirvi è la mia sequenza di allenamenti di febbraio. È un programma in codice, si tratta più che altro di numeri. Se una persona volesse accararmi il telefono e scoprire i miei segreti, non ci capirebbe nulla perché sono tutti programmi scritti in codice. Non che io sia un agente del sismi, ma che semplicemente utilizzo delle abbreviazioni non comprensibili a chi non conosce il mio sistema. Io ormai segno praticamente soltanto i numeri perché gli esercizi mi sono a memoria, non ho bisogno di scriverli. Non devo tenere tracce troppo estese del mio lavoro. Mi basta registrare l'essenziale e queste registrazioni viste da fuori non sono intuibili, non sono molto comprensibili, non sono molto intuitive. Ma chiunque abbia un diario ha il proprio modo di intendersi. È giusto così. Per quanto riguarda poi i vari scenari possibili, ripeto, c'è quello che ha addirittura il tablet in palestra, poi c'è quello che invece ha la Moleskine, c'è quello che ha lo smartphone. Ognuno ha il proprio sistema. Quello che conta è che l'atleta deve imparare ad autogestirsi. In merito all'autogestione, se volete che la vostra autogestione sia produttiva, sia proficua, vi serve una formazione. Non c'è stata una formazione in ambito di segreteria d'ufficio, ma bisogna proprio che abbiate chiari i concetti, i principi fondanti del vostro allenamento, che sia bodybuilding, che sia strength training, che sia powerbuilding, che sia pesistica, powerlifting, eccetera. Esistono schede per il powerlifting, esistono schede per il bodybuilding, esistono schede per la pesistica. Comunque inevitabilmente un atleta dovrebbe confluire nella propria personale registrazione di carichi. Per fare questo serve una persona che vi spieghi come si fa. Quindi come annotare tutto il programma, come capire le fluttuazioni, come leggere gli schemi di lavoro, come interpretare gli schemi di lavoro, come rilevare le falle nel sistema e come correggerle più avanti. È chiaro che, ripeto, serve un consulente che sappia come lavorare col volume, con l'intensità, con la frequenza, con la gestione degli esercizi, con la sequenza degli esercizi. Serve una consulenza abbastanza mirata. Serve un lavoro certosino. Qua purtroppo non ci sono scorciatoie. Una volta, tuttavia, che si impara a fare questo lavoro, il tutto diventa piuttosto scorrevole, piuttosto facile. Io personalmente registro i carichi man mano che mi alleno. Ogni volta che eseguo un esercizio, mi registro il carico inerente all'esercizio e passo al prossimo, proprio in live. Come riappoggio il bilanciere, segno il carico sollevato e poi passo al seguente esercizio, dopo in fluidità totale. Alcuni preferiscono tenere a mente i numeri, poi a casa rilaborare il programma, scrivere anche le note. Io personalmente preferisco scrivere a caldo, man mano che lavoro. Comunque questi sono approcci piuttosto personali. Io personalmente, con i miei clienti, ho la loro personale programmazione e la curo personalmente, come se fossi un medico con la cartella clinica. Ogni volta che eseguo una sessione di allenamento, ogni volta che ho un cliente in palestra, apro il suo file, registro i carichi e confronto il lavoro del giorno con quello dei giorni precedenti. Io personalmente lavoro così. Lo faccio offline, lo faccio online, ho sempre avuto questo approccio. Ripeto, come un medico che debba utilizzare una cartella clinica. Quindi la diagnostica dei progressi è molto importante. Bene, questo sostanzialmente è tutto. Schede contro diario di allenamento. Non c'è una vera contrapposizione. Le schede vanno benissimo. Però, quando un atleta comincia a diventare piuttosto avanzato, allora è indispensabile tenere un diario. Più diventate bravi, più il diario è stringato. Col tempo arriverete anche a delle formule ancora più stringate, ancora più sintetiche, in modo da non avere nessun intralcio con la continuità del lavoro in palestra. In buona sostanza, la registrazione di carichi non dovrebbe nemmeno interferire con la vostra sessione. Io personalmente segno, come dicevo, i carichi proprio nelle pause di recupero. Quindi l'approccio sostanzialmente è questo. Scrivere a caldo man mano che si lavora. Bene, mi sembra di aver detto tutto. Grazie per l'attenzione. Marco Pt. Out.